Eccoci qui ragazzi in questo nuovo video, io sono Alessandro come sempre, lì c'è Pietro che si nasconde come sempre Oggi siamo tornati con la categoria di video più famosa del mio canale, una delle migliori credo Ovvero scegliete voi dove andarcene Dunque oggi, allora, siamo conto a fare questa roba Quindi io vi lascio subito il sondaggio dove scegliere andare, se volete andare a destra o a sinistra A destra c'è l'opzione A o l'opzione B, l'opzione A la metto qua, l'opzione B la metto di qua E potete scegliere appunto, l'opzione A è molto più veloce però scassata Mentre l'opzione B è più flow e più ripida Quindi scegliete voi e basta, ciao!